Giorno e notte, un quotidiano in 48 edizioni, i batti, le notizie, i commenti, con le manucci insistenti che Napoleone stesse per contrarre rapporti d'affari con il signor Pinky con il boxwood o con il signor Frederick in piccina. Il primo febbraio al 14 giugno 2015, per tutte le informazioni www.mostrobordini.com Per cui, allora, bisogna prendere una truppetta da cocktail... ...perché quando non siamo nel abbandono non ce ne vediamo... ...perché quando non siamo nel abbandono non ce ne vediamo... ...perché non siamo nel abbandono... ...ma se non l'abbandono non siamo nulli... ...ma non mi faccia ridere per quella causa di 75 mila linea che abbiamo visto con le sorelle monomeri... ...lasci tenere... ...senti un po' questa cosa... ...c'è una brigata che fa una figura particolarmente... ...la storia famosa, la brigata Salerno... ...la riusciremmo mai più... ...non so, questa non è prova... ...non è grazie a Dio nemmeno quella merda della poesia... ...visibilità buona in diminuzione... ...mare poco mosso... ...tendenza del vento di direzione variabile in forza 3... ...sereno o poco ruvoloso... ...e, questo è il suo vento di cui si fa... ...la storia famigli... ...è mai a conferenza... ...senti il palino di giornale... ...e i bambini si accorgono... ...no... 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 ...no...